Molta curiosità per vedere la Juve scelta d'Allegri, per vedere l'attuisto Alessandro, arrivato dal Porto, giocatore di grande tecnica, di grande forza, può essere del futuro per tanti anni, l'esterno-sinistro della Juventus, un po' va a caricare di sole mentre Allegri in panchina, osserva la squadra che si va a disporre, nella parte opposta parante, come diceva Massimo Mauro, è molto molto più tranquillo, molto molto più sereno.